La Sardegna ha il sesto posto in Italia per truffe e frodi informatiche che negli ultimi dieci anni sono aumentate dall'89,2% e quanto rileva la confartigianata di imprese Sardegna. La guerra in Ucraina, sottolinea Fabio Mereu, vicepresidente dell'Associazione, delegato per l'innovazione tecnologica, ha messo in evidenza come uno dei caratteri dei nuovi conflitti ibridi sia quello degli attacchi informatici. La sicurezza pertanto diventa un fattore cruciale anche per le imprese. Su questo tema l'Ufficio Studi ha esaminato i dati dell'indagine dell'Istat sulla situazione e sulle prospettive delle imprese dopo l'emergenza sanitaria, nella quale sono esplorate le tendenze di nove fattori chiave della trasformazione digitale. Per costruire una società sarda che metta le imprese al riparo di attacchi informatici e che sia più smart e capace di ridurre i costi energetici, la Regione ha finanziato con 3 milioni di euro lo Shardab, guidato da Sardegna Ricerche. Questo progetto, di cui fa parte anche confartigianato, è stato presentato alla Commissione europea dopo aver superato la selezione italiana per diventare uno dei puri della rete europea per l'innovazione digitale. Per confartigianato tra i fattori della trasformazione digitale il più importante è quello della qualità della connessione internet e per questo è necessario che in Sardegna venga completata al più presto la realizzazione della rete di banda ultralarga.